E voi siete mai stati a Lussemburgo? Oggi giocheremo con Lussemburgo, ma con un piccolo twist. Grazie a questo commento ho deciso di fare una campagna con Lussemburgo particolare. La rendiamo iper-mega-tecnologica, ricerchiamo tutte le cose, costruiamo tutte le cose che possiamo costruire e proviamo a sopravvivere, ma anche a ingrandirci. Magari conquistiamo qualche provincia. Grazie alla magia dell'editing adesso ricercherò tutte le cose, farò tutti i focus, costruirò tutte le cose importanti e ci vedremo tra poco. Sto giocando con la mod Road to 56, così abbiamo dei focus un po' particolari. Ho fatto i focus, ho fatto tutte le ricerche, ho fatto tutte le costruzioni possibili, immaginabili e utili. Abbiamo anche un reattore nucleare, dei razzi, il radar, l'aeroporto al massimo. Sto convertendo le industrie civili in industrie militari. Poi ho impostato i vari leader, cioè il cabinet politico. Qua, come focus continuo, io direi di fare Aggressive Population Growth Policies, perché se no finiamo la popolazione. Ok. La truppa, che divisione abbiamo? Ok. Ok, fa schifo. Mi serve una divisione di cavalleria, facciamola subito, così fa da guarnigione. Per adesso non penso che... di poterla impostare. Allora, Military Police, non mi ricordo se si poteva già fare. Eh, infatti no, non ce la fa fare... non ce la fa fare perché non occupiamo nessuno. diamogli un generale e un Feldmaresciallo. Il Feldmaresciallo... Uh, ce le abbiamo. Ce le abbiamo. Nella versione normale non le abbiamo. Allora, Emil Speller, come Feldmaresciallo e come generale Matthias Krayer. Ok. Abbiamo delle Military Factories. Ce le metterei alle armi e mettiamo sotto le armi. Oh, no? Qua intanto si stanno creando i... i early ICBM. Che... che raggio hanno... copro tutto il mondo. Copro tutto il mondo tranne le... le... sì, le Wi-Fi, le Hawaii e l'Australia e la nuova Europa. a Zelanda. Va bene. Ah, no, adesso vi bombardo tutto. Per nucare... No, ma come Heavy Bomber? Ma mettemeli sulle ICBMs, le nuke. Sviluppatori di Road to 56. Per favore, modificate il Drop Nuclear Bomb in modo che io lo possa deployare anche con gli ICBMs, con i razzi. Perché non ha senso. Ce la metto dentro... Boom. Per favore. Fatemi questo a favore. Devo modificare il template. Ok, ho sistemato il template al massimo. Per adesso. Magari più avanti lo sistemo ancora. Per adesso lo voglio così. Mettiamoci anche un'artiglieria. Artillery. Buono. Abbiamo le risorse? Sì. Ce le ho tutte. Voi intanto allenatevi. Bravissimi. Facciamo i design per i nostri carri e per i nostri aerei. Allora. Modern Small Airframe. Così mi piace. Così mi piace. Perfetto. E ne voglio fare uno CAS. Quindi al posto di Guided Anti Air Rockets ci mettiamo... Rocket Trails. Improved Rocket Trails. Mi piace. Ok. Uno Jet, l'altro CAS. Buono. Prima o poi li produrremo. Per adesso non mi servono. La nostra truppa è allenata? Yes. Potremmo farne delle altre. Alleniamo delle altre truppe. Train. Train. Mi manca un po' di Manpower. Fa niente. Per adesso va bene. Voglio produrre anche un Rail Gun. Produciamone due. Abbiamo il nostro primo Rail Gun. Adesso tra poco facciamo anche il secondo. E facciamo anche dei Mortai. Visto che ce li abbiamo e possiamo farli, facciamoli. Questi ci metteranno ancora meno. Anzi, sono già pronti. E li assegno sempre qua. Buonissimo. Me li conto come Rail Rail Gun, ma hanno tutti lo stesso range. Boh. Va bene. Va bene. Mettiamo a produrre un CAS e il Jet. Poi dobbiamo fare i Carry. Facciamo i Light, i Medium o i Heavy? No, facciamo i Modern a sto punto. Perché devo fare queste cose? Il Modern. Ok, forse così mi piace. Abbiamo la Reliability del 70%, così ne perdiamo meno per l'Attrition. e Soft Attack 58, Hard Attack 65, Piercing 170, Armor 236, Breakthrough 217. Ci sono modelli migliori? Sì. Però a me piace questo. Ho fatto anche questa piccola divisione di Carri e poi magari ne possiamo produrne già una? Ci mancano dei Carri, quindi no, aspettiamo. Possiamo deployare intanto degli aerei. Deployiamo entrambe le Air Wing. Così intanto sono già in campo. Abbiamo 200 ICBMs che sono pronte a devastare tutto il mondo. Vediamo, la loro velocità qual è? Quasi 10.000 km all'ora. Il range 16.000 km. Madonna. No, Beijing è caduta. Perché? Poverini. Uh, posso mandare l'Attaché? Non lo accetteranno. Vabbè, peggio per voi. Non lo volete? Vi arrangiate. Alla Spagna? Alla Spagna? Alla Taché? Lo vogliono? Mandiamolo. Tanto abbiamo i punti, usiamoli. La Spagna ha perso ai fascisti. Sono stati sconfitti sia i democratici, barra comunisti, che i anarchici. E la Germania ha annesso l'Austria. Tra poco, potenzialmente, inizierà la guerra. Il nostro radar cosa copre? Ah, compre quasi tutta l'Europa continentale. Sto facendo un trade di tungsteno con il Portogallo, ma me ne basta anche soltanto uno. Va bene, teniamo così. Sto facendo un trade perché mi mancavano per i carri. Facciamo il focus a Just Our Foreign Policy, perché la Germania, barra Francia, hanno fatto più di 5% di World Tension. Così togliamo il Legacy of Luxembourg Crisis, che ci toglie dai debuff. Quindi zaccate e facciamo. Gli inglesi e i francesi si alleano. Tanto ne abbiamo aggiustato. Ma sì, ma... Vediamo aiuto alla Francia. Ask for French Aid. Armament Aid. Cosa ci danno? Magari ci danno delle armi. Che sicuramente non ci servono perché abbiamo 62.000 Infant Equipment. Però... Magari glieli possiamo vendere. Anzi, proviamo a vedere cosa possiamo vendere. Sell Equipment. 10 transport plane non penso mi servano. Quindi add. Un treno schifoso add. Ce l'hanno già venduto. Cioè, comprato. E... Accetta. Io voglio fare una cosa, però. Market Options. Auto Accept. Così non perdiamo tempo. Add Equipment. Cos'altro possiamo vendere? Ma io direi 5.000 di questi possiamo venderli. Ho messo a vendere tutte le cose schifose. E 5.000 macchine. Spero che qualcuno me le compri. Facciamo partire del tempo. Non sembra che nessuno sia interessato a noi. Ma niente. Le tengo comunque lì perché non mi servono tanto. Tra poco finisce anche il Focus. Per l'aiuto militare francese. Vediamo. 60... Uh, qua hanno fatto un forte. Un fortino. Join the Allies. Non lo voglio fare. Continuiamo con Aggressive Population Growth Policies. Che è uno scioglilingua. Però sono diventato bravissimo ormai. French Republic meno 1.000 manpower. Noi ci dà più 1.000 manpower. Grazie. 7.000 infantry occupant. Certo, grazie. Le mettiamo subito a vendere nel mercato internazionale. Non serviranno a niente. Nessuno ce le comprerà. Ok, intanto. Tutte le nostre divisioni sono belle e allenate. Potrei farne un altro po'. Magari facciamone altre due. E ci rimane comunque il manpower. Easy peasy. Uh, devi assegnarti però al Feldmaresciallo. No, dai. Ok, si è assegnato. Niente. Come non detto. E siamo la zona più militarizzata al mondo. Forte al massimo. Aeroporto. Antiaerea. Quattro railway gun. Come si chiama? Airbase con 200 ICBMs. Siamo fortissimi. E tra l'altro quattro bombe atomiche. Prima ancora che sapessero ancora delle atomiche. Uh, Poland Refuses German Ultimatum. La seconda guerra mondiale è ufficialmente partita. La Poland è entrata negli alleati. Adesso la Francia e l'Inghilterra vanno assieme alla Polonia. Voi vi siete allenati. Quasi. Sono quasi pronti. Cosa abbiamo in deposito? Abbiamo un bel po' di aerei. Un sacco di closer support. Abbiamo un sacco di treni. Magari i treni. togliamo e lo do al Jet Fighter. Così ne producono un altro bel popò. Tanto noi altri immigrati ne andiamo a 35.000. No, 36.000 quasi. Sì, 36.000 di surplus. L'esercito è totalmente allenato. E facciamo che il Feldmaresciallo si prenda il foronte tedesco. Buono. Così magari si prendono un po' di organizzazione, di esperienza. Che bonus dà? Si prendono qualche bonus ma non ne ho idea. Varsavia è caduta. E con Varsavia cade anche la Polonia. La Germania dichiara guerra alla Norvegia. Per un attimo ho flashato che avessero dichiarato guerra agli inglesi e i norvegesi. Mi stavo un attimo ragionando su quello che è uscito. Ah, sta facendo proprio dei war goal contro noi e contro il Belgio. Inutile, perché tanto c'è il focus di aggirare la Maginot. Però va bene. Buon per te. Soviet Union dichiara guerra alla Repubblica di Finlandia. Repubblica di Finlandia che sta pushando nel territorio sovietico. Stanno avanzando loro. Immaginatevi se fanno una pace bianca e si prendono tutto Murmansk. Che ridere. Dubito. Dubito succeda. Spero che ridere. Kingdom of Netherlands joined the Allies. Perché la Germania li ha attaccati. Tra poco tocca a noi. Hanno finito di giustificare contro di noi. Tra poco ci tocca. Anche il Belgio è entrato in guerra. Noi invece? Ancora nulla? O hanno paura? O hanno paura delle nostre capacità? Allunghiamo il fronte. E non ci fa allungare. Va bene. Ah perché c'è questa provincia di Eupen. Gli olandesi sono capitolati completamente. Tra poco anche i Belgi. Eccoli là. e ci dichiarano guerra. Ma non stanno ancora attaccando. I nostri aerei stanno facendo casino. Enemy planes shot down. 12. 12. 9. 7. Noi ancora a 0. 15. 16. Mamma mia. I nostri aerei li stanno devastando. Come siamo messi a perdite? Noi abbiamo perso 3k. La Germania. 209.000. RIP Germania. RIP Germania vera e propria. Possiamo mettere degli altri aerei? Mettiamo degli altri aerei. Uno faccio di superiority. L'altro faccio di interception. Sempre nel Benelux. 13, 18, 14, 20. Li devastiamo. Li devastiamo. Eh, stiamo avendo anche noi delle piccole perdite. Però li stiamo devastando assolutamente. Voglio prendermi qualcosa di bellino. Questa è abbastanza piccola. Possiamo prenderci quest. Dai. Andiamo. Andiamo a prendercela noi. Tu offri supporto. Tu te ne stai a posto. Tu anche. Ok. E ci manca Starbrughen. Buono. Buono. Buono, così controlliamo due stati. Il nostro Lussemburgo e Starbrughen. Ora, possiamo fare il focus. Industrial Boom. No, ci servono more factories than 45. Quanto ne abbiamo? Dieci. Dieci. Come non detto. Vediamo quanto danno stiamo facendo. Noi abbiamo perso 8k. La Germania 540, 550, 560, 570. No, devo smettere di guardare. Gli italiani? Eh, per mano nostra ancora niente. Per mano nostra ancora niente. Ad aerei? Come sono messi? Beh, vedo che sono un po' calati. Prima erano 1700. Adesso 1300. 100%. Uh, guarda qua. Guarda qua quanti eri. Da 1700 sono passati a 208. Enemy Fighters Lost 1956. Noi ne abbiamo persi 54. Noi ne abbiamo persi 54. Per farvi rendere conto. Win ratio 98%. Il nemico, la Germania, ha perso 3200 medium tank, 1500 light tank, 7000 motorized e 459 mechanized. Nei più ultimi 12 mesi. Vediamo un po' il power. Quanto hanno perso. Siamo quasi a un milione. Siamo quasi a un milione. Abbiamo guadagnato la superiorità numerica. Il nemico ha perso più di 2000 aerei. Mettiamo a casa di nuovo i nostri fighter. Non tutti. La metà. Perché se no finiamo tutta la benzina. E il 2 ottobre, alle 15 del pomeriggio, abbiamo raggiunto il milione di casualty causate alla Germania. Siamo inarrestabili. Siamo inarrestabili. Ma ci manca la benzina. Quello ci manca purtroppo. Perché non abbiamo fabbriche? Eh beh, perché non esportiamo più nulla. Perché siamo totalmente circondati. Quante province serve per arrivare al mare? 1, 2, 3, 4, 5, 6 province. 1, 2, 3, 4, 5, 6 province. Noi quanti troviamo? 7. Potremmo provarci. Potremmo provarci a fare la giocata ed arrivare al mare. Sarebbe un po' una stupidata. Però potremmo provarci. Andiamocene da Sarsk-Buruken. E andiamo verso queste due regioni che ci hanno i forti al massimo. Due regioni, due province. Uno di voi dia una mano per prendere Mez. Veloce, 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 veloce. Ok, perfetto. Abbiamo queste altre due province, regioni... Non so come chiamarle. A Hill, Hills province. Sarsk-Buruken. Non so se... Non so se provincia intende proprio tutta questa. O se la conta come regione. Non ne ho idea. Allora, ho portato qua le truppe perché voglio provare a circondare dei tedeschi. Oh, qua. Riusciamo? Riusciamo a tenerli? Fortress Blasters. Ok. Ok, sì. Magari smettiamola di allenarci. Tanto l'esperienza la facciamo comunque. Ok. Ok. Qua ci sono dei tedeschi. Ah, sono connesse lì. Eh, possono farci il giro da lì. Mi serve assolutamente un'altra truppa. Ma mi arrivano delle truppe alleate a difendermi. Eh, possono prendermi gent, ma di qua non possono passare comunque. Prendiamolo noi. Se si prendono Antwerpon, chi se ne frega. Eh? Sono arrivati gli egizi. Sono arrivati i faraoni. Aiutiamoli. Quanti danni abbiamo fatto? Un milione e otto. Loro ventitremila. Ventitremila e basta. Ci sono due truppe. Due divisioni egizie. Però niente inglesi, niente francesi. Oh, no. Ce n'è una inglese. È arrivata adesso. Perfetto. Grandissimi. Eh, no. Eccoli qua che arrivano. Eccoli qua che arrivano. Dai che pushiamo. Dai che ci riusciamo a pushare. Dai. Ci servono altri alleati qua sul fronte. Io sto facendo il più possibile, ma non posso fare tutto. Stai fermo. A posto. Poi di qua. Stai fermo, avanza tu. E poi procediamo per di qua. Buono. Lussemburgo, Lussemburgo. Prendiamoci i sedani. Ok. Siamo ritornati a cavallo. Ok. Tu cosa ti sei preso? Infantry expert. Avanziamo anche di qua. Così circondiamo questa truppa. Siamo riusciti a prenderla? Non so se... Non so se si è spostata. Prendiamo Parigi, già che ci siamo. Liberation of Parigi. Bella. Qua tagliamo queste due belle divisioni. E andiamo a prenderle. Quanto siamo arrivati? Abbiamo superato i due milioni. Immagina per prendere due milioni di... Di casualties da parte della... Del Lussemburgo. No, 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 no. Mi sa che mi avanzano. Mi sa che mi avanzano in Lussemburgo. Uh. Al limite. Al limite. No, si riprendono Parigi. Si riprendono Parigi perché non vengono ad aiutarmi. No, mi servono... Mi servono truppe per reggere il fronte. Facciamo cos... Facciamo un nuovo... Garrison. Infantry. Ok. Le metto come... Garrison division, si. Mi va bene. New division. Rain. E le metto giusto per... Per tenere il fronte. Non mi servono per fare altro. Voi fermatevi. Sono al cinque. A posto. Deployati. Andate a reggere il fronte, per favore. Questa divisione? No. No. Bella. Un'altra divisione collassata. Qua, aiuto. Ok. Muovitevi veloci. Ok. Ora il fronte... Il fronte dovrebbe riuscire a reggere. Perfetto. Sicuramente perderemo delle divisioni. Eh, infatti, uno l'abbiamo già persa. Anche qua mi serve una mano. Vai tu. Ne abbiamo già perse tre divisioni. Eh... Ok. Ne abbiamo perse un sacco di divisioni. Basta. Dai, smettiamole di perdere divisioni. Tutte queste truppe, per favore, le potete spostare qua in Europa? Per favore, vi prego. Beh, ragazzi, siamo arrivati ufficialmente a 3 milioni di casualties. Continuo ad andare con il carro moderno. A circondare una provincia alla volta e distruggere tutte le truppe che hanno. Vediamo come sono messi all'Intel. Eh, no, hanno un sacco di manpower ancora. Di aerei... Di aerei molti meno. Ok. Ok, ok, no. Pian piano però li ridurrò a zero. Datemi solo un po' di tempo. Uh, la Germania attacca... Cioè, come ho detto, li ridurrò a zero. La Germania attacca all'Unione Sovietica. Adesso perdono per forza. Per forza. Su due fronti non riusciranno a reggere. Anche perché un fronte siamo noi. Abbiamo superato del tutto la quota dei 4 milioni. Siamo a 4 milioni e 300 mila. Mentre per gli italiani 356 mila. Per i romeni 210 mila. Per gli ingheresi 200... Ah no, non siamo noi quelli. Ok. Per gli ingheresi 89 mila. Per i bulgari 57 mila. Per i danesi... No, per i danesi non abbiamo fatto molto. Ok. Siamo fortissimi. Ho circondato non so quante truppe ormai. Non c'è una divisione tedesca che abbia full strength. A parte questa. Questa ci sta. Questa è buona. Il Belgio e l'Olanda sono completamente liberate. Adesso la Francia ha perso di nuovo Parigi. Però forse riusciamo a riprendercelo. Anzi, facciamo il giro. Facciamo il giro di Parigi. Giro e l'attacchiamo. Ah no. Dobbiamo rifare... Ah vabbè, stanno ormai scappando. Non ha senso. Ok. Ci siamo ripresi Parigi. Prendiamoci Versailles. Ok. Guarda me. Qua sotto continuano ad arrivare... Attacchi di divisioni tedesche. Che si avvicinano sempre, sempre, sempre alla nostra povera Lussemburgo. Però non ce la fanno mai a prenderla. Poi in alto. Ecco qua il mio carro. Ovviamente faccio così, faccio il giro e poi la circondo. Abbiamo delle altre divisioni a supporto. Prendiamole. Ok. E circondata. E distrutta. Ora facciamo la stessa cosa anche qua. A Brema. No. Hanno circondato noi. È una divisione veloce. Ok. Ok, la fanteria può reggere. Mandiamo i carri. Ok. Distrutti. Qua. Possiamo circondare qualcosa di veloce? Sì. E qua, due divisioni gustose, gustose. Una tedesca e una romena. Buono. Allora, vorrei far notare che sto facendo questo con dieci divisioni. Abbiamo il 60% di world participation. La tecnologia è tanta roba. Se non sei tecnologico, rimani indietro. Prendiamoci il drop. Dortmund e Uppertal. Non ho mai sentito questo paese nella vita. quindi probabilmente non esiste. Funziona così. Tipo, la gente che non è mai andata in Finlandia, non conosce nessun finlandese, per forza la Finlandia non esiste. Io invece ho incontrato una finlandese. Almeno, è una finlandese, ma potrebbe essere una... Potrebbe lavorare per la CIA. Ma perché sto tenendole queste cuffie in testa? E c'ho gli auricolari. Non chiedetemelo. Buono. Qua altri vogliono essere circondati. Il mio obiettivo è far finire le truppe ai tedeschi e agli italiani. Perché meno truppe hanno, meno possono tenere il fronte. In i Soviet Union come stanno? Eh, infatti, guardate qua come perdono. Eh, ma neanche troppo, neanche troppo. Ok, la Romania sta perdendo. Non riescono a reggere il basso. Se riesco a dividere il fronte, faccio partire il Feldmaresciallo. No, fermatevi. Avanza di qua. Ok. Eh, qua ci sono i porti da dieci. Qua sarà un po' difficilina la situazione. Tuttavia, abbiamo spezzato il fronte. Facciamo così. Cinque di voi vanno qua. Via. Via. Così completiamo la liberazione della Francia. Quasi tutta la Francia è stata conquistata. Abbiamo fatto 5.2 milioni di casualties alla Germania. Abbiamo il... Dove siamo? Abbiamo il 54% di war score. E, ok, sì, la Francia è completamente in mano nostra. Ora, dobbiamo prendere Berlino. Dobbiamo essere noi a prendere Berlino. Dai. Dai, sì. Sì, 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 sì. E siamo noi a prendere Berlino. Allora, hanno fatto la Yalta Conference. Ma come si permettono di fare la Yalta Conference che tutti sommati non superano il mio war score? Non mi hanno nemmeno invitati. Non mi hanno nemmeno invitati. Adesso vedranno. Adesso vedranno la mia ira. Quando conquisto Berlino. No, Berlino l'ho già presa. Andiamo a prendere Vienna. Dove è Vienna? Mmm, è troppo lontana. È troppo lontana. Dove è il mio carro? No, va bene, mi mandiamo le truppe normali. Andate a Vienna. No, andate prima a Salzburg, poi a Linz, poi a Vienna. Salzburg, poi a Linz, poi a Vienna. Quanto manca la Germania per capitolare? Quando ne hanno 15. Ma possiamo bombardarli, magari? Medium Bomber? No, ci saranno dei strategic bomber. Ok. E ora lo produciamo. Togliamo il carro. Tanto ne abbiamo un sacco. E mettiamo tutto verso il large airframe. Dobbiamo fare... Dobbiamo fare i... No, mi... Ok, pensavo mi crashasse il gioco. Ci serve almeno... Almeno uno strategic bomber. Ok, ora ce l'abbiamo. La mandiamo... Dov'è la capitale tedesca? Gdynia. Mandiamolo qua. Gdynia. Bombardati. Poznan bombardati. Danzig. Ah no, bombardato Danzig. Devo bombardare qua. Bombardato. Duron bombardato. Bombardato. Daie. Ok. Le prime bombe nucleari le abbiamo messe noi. E quanto è abbassato? Ok, gli manca un per cento e la Germania ha capitolato. Dai che adesso prendiamo grasa e abbiamo vinto. A posto. Siamo stati noi a prendere il punto finale. Oh là. Vedete adesso cosa gli faccio? Vedete adesso cosa gli faccio? Ok. Sono riuscito a fare la pace. Allora, Kingdom of Italy è nostro? E chi è Kingdom of Italy? Ah no, è nel comb interno. A caso. Totalmente a caso. Va bene. E qua c'è un bellissimo border gore. Non mi bastavano più i punti. Anche qua un bellissimo border gore. Intanto, come faccio a vedere la mia nazione? La mia nazione? Non lo so. Ok, comunque abbiamo preso un bel po' della Germania, la Danimarca, la Norvegia, le Faroe Islands. Ho preso la Libia. Ho preso la Libia. E basta. Uh, l'Etiopia è diventata enorme. Complimenti Etiopia. E niente, io direi che per questa campagna è tutto. Noi ci siamo divertiti. Io mi sono divertito perlomeno. La Polonia è gigante. Però è un puppet del Soviet Union. Va bene. E niente, noi ci vediamo alla prossima. E bella. Noi ci vediamo alla prossima.